Altro tipo di solidarietà che voglio evidenziare è la solidarietà degli italiani che si è manifestato in uno slancio che ha portato a oltre 25 milioni e mezzo di euro raccolti sul conto corrente del Dipartimento nel giro di pochissimi giorni da quando abbiamo aperto il nostro conto corrente e ricordo a tutti che le risorse saranno destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, di materiale sanitario e respiratori per potenziare la capacità di risposta del nostro Paese al contrasto dell'epidemia di coronavirus. Voglio anche ricordare e ringraziare i numerosi Paesi che hanno contribuito alle attività del nostro Paese, in particolar modo la Federazione Russa, la Repubblica Popolare Cinese, Cuba, la Francia e la Germania che ci hanno messo a disposizione uomini e mezzi per contrastare questa epidemia.